Bene, un altro che non sarà più un problema. Amen! Magari bastasse un amen a mettere fine a tutto questo. Sì, sarebbe fantastico, capitano. Siete tutti con me? Sì, capitano. Sì, capitano. Non c'è dubbio, certo. Ve lo ripeto. Siete tutti con me? Sei troppo duro, ma tu lo sei sempre stato. Essere duro è il compito di un padre. È quello di una figlia sopportarti. E se io morissi? Riusciresti a fare fuoco su uno dei tuoi? E se morissi tu? Non sperarci troppo. No, sul serio. Se tu morissi e poi ti alzassi e camminassi, dovremmo essere così duri da far fuoco su di te. Non dovreste. Mi sparerei da solo. Potresti cambiare idea su questo. Chi muore non pensa a niente. Un morto può solo ricordare com'era e tentare di essere come prima. Avanti il prossimo. All'inizio non c'eravamo. Scoprimo dopo cos'era successo. Quel vecchio stupido, Patrick O'Flynn, decisa che sarebbe stato meglio che i morti restassero morti. Se ne andò in giro per l'isola a cercare di ripulire le cose. Ma non tutti erano d'accordo. Andiamo. All'inizio non c'erano. All'inizio non c'erano. Andiamo. Ma non c'erano.